Ciao a tutti ragazzi sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodio dove facciamo una bella cosa con la towncraft scusate la voce ragazzi ma le ciò mal di gol quanti ce n'è quanti ce n'è due pistole addirittura buono buono allora abbiamo preso della legna abbiamo preso della legna un altro ah si come noterete come noterete ho spianato tutto come mi avete detto vi faceva veramente schifo lì davanti vi ho spianato poi vedremo cosa costruire il query le sta funzionando ma dobbiamo fare cose molto più importanti allora torniamo lì andiamo dalla towncraft e pirletta mi servono dei cristalli mi servono dei cristalli vediamo un po' quali abbiamo vediamo un po' quali abbiamo di più i gialli i gialli bene dammi i cristalli dai dai su dai dai su dai dai su ok facciamo una bella cosa ragazzi oggi perché come avete visto c'è del liquido scuro e noi oggi lo facciamo evaporere allora andiamo qui legna e cristalli anche te io non avevo chiesto i 4 di cristalli scusate scusate infatti pirletta voi assaggiamo questa bistecca vediamo com'è è bella putende guardate il liquido scuro nessun problema allora abbiamo 4 ce ne servono altri ce ne servono altri io per il momento farei in questo modo giusto per adesso dove sono i tubi qui oh ah pirletta facciamo una cosa così veloce solo per adesso prendiamo dell'ossidiana che l'ossidiana è la migliore prendiamo dell'ossidiana dove l'ho messa chi ossidiana tante 3 12 andiamo lì ancora dai veloce veloce che c'è un po' di cose da fare allora prendiamo l'ossidiana e la lanciamo tante anche te dai su 8 bene facciamone un altro ok ora che abbiamo questi 16 dobbiamo fare il vis 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 filter dov'è vis filter ecchietelo qui 4 di quelli uno un alumentum che si crafta in questo modo noi se vi ricordate li abbiamo già fatti ecchieteli chi allora alumentum tubi e ferro mi servono sei pezzi di ferro speriamo di averli speriamo di averli speriamo di averli speriamo di averli e infatti siamo pieni siamo ah sì ci abbiamo sei ok poi 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 basta allora facciamo così questi qui i ferri e questi qua dov'è voilà ne facciamo ben 3 potremmo fare di più però per il momento 3 bastano poi ci serviranno altri di questi legni che si craftano in questo modo 4 non abbiamo redstone ci penso mi non abbiamo redstone ci penso mi ok allora abbiamo detto non mi ricordo già più r no p e questo a legno e vetro piatto lo abbiamo allora no così così e no ma che cavolo sto combinando ma porca trota legno piatto si legno piatto si legno piatto vetro piatto ok ok dovremmo avere il tutto ciò ora vi faccio vedere una bella cosa questi qua fanno evaporare il liquido scuro vi faccio vedere ne piazzichiamo uno qui no che sto combinando questo tankete ora logicamente non c'è liquido scuro ma io vorrei farlo tipo camino vi faccio vedere come dicetemi se va bene eh allora magari facciamo così o cas le not facciamo così aia pirletta ole qua possiamo richiudere ancora ole e guara allora spacchiamo questo che non ci serve per il momento no ridammelo ok possiamo rompere questi qui e andiamo a fare la nanna ok buongiorno allora mi serve prima di tutto un bel po' di ossidiana ossidiana andiamo a prendere un po' di energia dovrebbe esserci un po' a voglia eeeh la peppina di mallorca ok andiamo a prendere dell'ossidiana intanto mettiamo qui la portal gun la piazzichiamo qui tankete prendiamo dell'ossidiana ossidiana dove l'è qui ossidiana ole bene saliamo giù entriamo fuori sento dei rumori strani oh un creeper un lupo madonna quanta gente oh adesso ho anche spianato ragazzi è molto più probabile che arrivino molti mob era meglio non spianare mi sa uccidiamo sto ragno che mi sta antipetiche è finito il carbone lì ho visto allora saliamo su e vi faccio vedere una bella cosa dove l'è il book dove l'è il book oh allora questa è l'entrata il buco aia deve essere di qua oh e che cavo ma dove il cavolo è ma vaffanchiul va vaffanchiul allora bisogna cercare il buco dove il cavolo è il buco faccio prima a fare così guardate perché sono qua siamo fino a domani ok ah era qui bene allora vi faccio vedere una bella cosa prendiamo i tubi facciamolo un pochino più alto ok allora allora mettiamo il questo qui perfetto ora diventerà un vero e proprio cammino vi faccio vedere apriamo la portal gun ole prendiamo l'ossidiana e vi faccio vedere una cosa il liquido chiaro quello buono andrà qua dentro questo tank quello scuro si evaporerà nel cammino vi faccio vedere prendiamo dell'ossidiana tankete il liquido chiaro e il liquido scuro guardate guardate che fa il cammino oh e dai vedete logicamente un vis filter è poco perché andrà molto lento vedete che il liquido scuro ce n'è tanto noi lo potenziamo no ho sbagliato ne mettiamo altri più ne mettiamo meglio è guardate funzionano tutti e tre è diventato oltre ad essere un cammino anche un modo per buttare via quel liquido scuro che però non va buttato via tutto vedete già si è svuotato non va buttato via tutto perché più avanti quando potenzieremo l'infuser faremo il dark infuser ci servirà anche il liquido scuro per cui più avanti divideremo i liquidi facendo altri tank sia di quello scuro che di quello chiaro e quello in eccesso lo faremo evaporare ole spero viate capito spero vi sia piaciuto spero che è una cosa che non sapevate perché lo spero sempre e mi piace insegnarvi tutto ciò che scopro che so che imparo io adesso devo mangiare qualche cosa e intanto vi dico che da Luke è tutto ah vi farò vedere tante altre cose ragazzi ciao a tutti perché adesso saltellando come un pirla e ciao a tutti ciao a tutti